Buongiorno e benvenuti in questo mio nuovo video. Per chi non mi conosce sono Furio Di Palma, medico chirurgo specializzato in ossigeno-zonoterapia all'Università di Siena e alla società scientifica di ossigeno-zonoterapia di Bergamo, di cui sono coordinatore per la Liguria. Da oltre un decennio gestisco uno dei primi centri di eccellenza in ossigeno-zonoterapia e medicina anti-aging. Nello scorso video ti ho parlato della scelta del cuscino. Naturalmente si sta parlando di persone che hanno dei problemi al collo, non necessariamente l'ernia del disco. In ogni caso durante questo video invece ti parlerò dello sport, quali sono quelli indicati, quali possono essere o meno, quali possono essere per così dire proibiti e quali le attenzioni che noi dobbiamo mettere in gioco. Quindi, allora, vediamo la prima cosa, è sicuramente quella di distinguere se l'ernia del disco è in una fase acuta o in una fase cronica, perché le cose cambiano e parecchio. In che senso? Cioè nel senso che se si tratta di una cosa acuta è logico che in questo momento il consiglio è quello di cercare di sospendere momentaneamente l'attività fisica, perché quella, agendo quindi con uno stimolo su una zona che è già irritata ed infiammata, non fa altro che peggiorare e rendere ancora più tragica. Quindi ricordate se è un momento acuto e quindi c'è parecchio dolore, il dolore è un qualcosa che ci indica, qui c'è un problema, stai attento, non farlo lavorare, quindi riposo. Diverso è se invece l'ernia del disco è, diciamo, in una fase cronica dove noi sappiamo di averla, ogni tanto si fa sentire, però non è in fase acuta. Quindi è, per così dire, importante per l'ernia del disco proprio fare anche dell'attività fisica, perché? Perché avere una muscolatura tonica che quindi protegge e tiene comunque nelle giuste posizioni e le nostre vertebre è sicuramente un aiuto, quindi una muscolatura tonica è vivamente raccomandabile. Però è logico che bisogna stare attenti perché se gli equilibri vengono rotti, si fanno degli sport, dei movimenti che non debbano essere fatto, sicuramente anziché avere un effetto positivo potrà essere il contrario. Quindi iniziamo e vediamo quali possono essere gli sport più interessanti, considerati migliori quando uno ha un problema alla colonna. Sicuramente noi possiamo parlare del nuoto, il nuoto perché? Perché il nuoto è in assenza di gravità, quindi tutti i movimenti che noi facciamo non saranno accelerati, complicati quindi dalla forza di gravità e verranno resi molto più dolci. Anche se bisogna dire che esistono anche degli studi fatti ultimamente dove ci sono particolari controverse proprio sull'argomento. Però io posso dire che data la mia lunga esperienza ti consiglio di tenere presente il nuoto tra questi con delle dovute attenzioni, cioè in poche parole se hai un'ernia lombare tu dovrai fare molto nuoto ma sul dorso. Questo perché? Perché in questo modo irrobustirai particolarmente gli addominali che aiutano molto a tenere sotto controllo i problemi della colonna. Oltre questo possiamo invece parlare, altra attenzione, per coloro che hanno un'ernia del disco ma l'hanno cervicale. Ecco che allora il nuoto in questo caso può essere anche negativo perché se noi facciamo tanto stile libero dove ci sono continuamente la testa, il collo, quindi si girano per poter permettere la respirazione, questo potrebbe essere una cosa controproducente. Quindi il consiglio che ti posso dare è quello di cercare di usare, anche se magari può non essere carino, ma di usare una maschera, una maschera con il respiratore in modo da poter fare tranquillamente le vasche, quindi gli esercizi fisici, però senza dover estorcere continuamente il collo. Oppure quello di eseguire sempre sul dorso cercando di tenere la testa non eccessivamente inclinata verso il torace, cioè quindi verso l'alto. Un altro sport interessante per chi ha dei problemi alla colonna lombare può essere la bicicletta. Perché dico per coloro che l'hanno a livello lombare? Semplicemente per il fatto che in entrambi i casi è molto importante che la bicicletta sia ben regolata sulle misure della persona che fa lo sport. Perché se questo non avviene, chiaramente ecco che anche a livello della colonna, quindi della parte lombare, ci possono essere quindi dei problemi. Quindi l'attenzione per quelli che hanno un problema lombare è quella di avere una bicicletta che sia regolata e con le misure giuste, che quella di fare la bicicletta, cioè ciclismo in zone che siano o prive di buchi, ci siano pochi buchi, naturalmente è sconsigliabile fare la mountain bike proprio per i contraccolpi e i colpi che comunque vengono trasmessi alla colonna stessa. Per quanto riguarda invece la differenziazione che io ho fatto all'inizio, ecco che qui dobbiamo capire questo, che se uno ha un problema alla colonna cervicale potrà lo stesso fare un po' di bicicletta, non dovrà esagerare, in quanto per poter andare in bicicletta bisognerà in genere tenere il capo inclinato verso il dietro per poter avere una visuale anteriormente. Ecco quindi che questa posizione trattenuta alla lungo e dando una contrattura quindi ai muscoli stessi del collo può essere controproducente. Quindi di nuovo il consiglio può essere quello di usare delle biciclette che non siano quelle da corsa dove uno è molto inclinato in avanti e quindi necessariamente dovrà storcere ma il capo verso il dietro ma cercarne una un po' meno sportiva ma che consenta una guida più comoda. Altri due sport che possono essere considerati bene può essere sicuramente lo yoga che è uno per così dire sport ma comunque tiene tonici muscoli ma nello stesso tempo fa bene anche alla mente ma nello stesso tempo ha dei movimenti molto delicati e l'altro per gli stessi motivi può essere il pilates. Naturalmente è bene essere seguiti da un buon istruttore al quale sarà bene specificare di avere quel genere di problemi e lui stesso sarà sicuramente in grado di consigliare gli esercizi che sono più raccomandabili e quelli magari invece da evitare. Ora che io comunque vi ho parlato degli sport che possono essere diciamo consigliabili passiamo invece a quelli che possono o spesso fanno male e quindi vediamo ora di analizzare a livello di concetto. Il concetto è quello di cercare in massima parte di evitare i salti questo sia per chi ha problemi alla colonna cervicale sia per chi ha la colonna lombare perché durante il salto noi abbiamo una compressione quindi viene trasmessa comunque una compressione anche a livello dei dischi e quindi sicuramente questo alla lunga può non far bene alla nostra ernia. Un'altra cosa che bisognerebbe cercare di evitare è di esagerare con la corsa è molto meglio quindi sostituire se uno non riesce a stare fermo e giustamente ha voglia di esercitarsi quella di fare invece un passo veloce. E per quale motivo? Perché chiaramente lo stesso motivo dei salti durante la corsa l'appoggio quindi nel momento in cui noi avanziamo e di corsa non facciamo altro che andare a portare il peso in maniera molto violenta su il piede che sostiene il corpo e quindi avremo una ripercussione sempre a livello dei dischi. Per questo motivo è molto importante quando comunque sia che sia passo veloce sia che sia una quindi una corsa ma limitata usare delle scarpe che siano veramente professionali e che attutiscono quindi questo queste compressioni e questa trasmissione dei colpi. un'altra cosa molto importante è quella di sciagliere comunque è sempre il terreno dove camminare perché naturalmente è molto diverso arrampicarsi su per salite o scendere delle discese piuttosto ripide perché in questo caso la nostra schiena si innarcherà maggiormente e naturalmente questo potrebbe essere particolarmente negativo. Lo stesso è se noi camminiamo su terreni che sono accidentati piene di buchette di sassi è chiaro che in alcuni momenti il nostro corpo può leggermente sbandare trasmettendo questo impatto anche alla schiena. Altra cosa che andrebbe evitata sono gli sport che comportano un sovraccarico e a questo mi riferisco quindi ma non a tutti gli esercizi allo sport che viene praticato con i pesi perché per lo stesso motivo è logico che se noi teniamo in mano dei pesi abbiamo sopra le spalle dei dischi o cose quindi che comportano un aggravio di peso sui dischi questo è nuovamente una cosa negativa. Lo stesso sono gli sport dove ci sono delle accelerazioni improvvise oppure ci sono degli inarcamenti o addirittura a volte è facile ricevere quindi dei traumi e a questo mi posso riferire per esempio al tennis dove le accelerazioni possono essere piuttosto intense, lo stesso anche il calcio dove c'è la corsa dove ci sono i salti, dove ci sono i traumi e dove anche appunto ci sono tutte le cose che bisognerebbe in quei momenti e con quei problemi cercare nel possibile di evitare. Un altro sport che deve essere fatto con molta ma molta attenzione quindi è raccomandabile scegliersene un altro se non c'è proprio quella enorme passione è quella del bodybuilding perché naturalmente questo può per il motivo del sovraccarico e il motivo anche delle eccessive a volte compressioni ma contratture, contrazioni meglio contrazioni quindi dei muscoli fatti in maniera piuttosto potente possono loro stessi provocare una maggiore compressione dei dischi. Però vi posso già dire che questo sarà l'argomento del prossimo video perché io stesso sono stato appassionato per anni e vi voglio quindi consigliare il tipo di allenamento, il tipo di esercizi che è meglio praticare se proprio uno non riesce a stare lontano dalla sua passione. Se ti è piaciuto questo video e ti è stato utile puoi fare tre semplici cose. Primo iscriviti al mio canale youtube così avrai la possibilità di conoscere in anteprima le novità scientifiche sull'argomento. Numero due condividi questo video con i tuoi amici così puoi essere loro di aiuto. Tre segui la mia pagina facebook così interagisci direttamente con me. Per ulteriori informazioni visita il sito www.furiodipalma.it. Alla prossima!